Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna code a tratti tra Calenzano e Barberino. In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Le aree di servizio di Beretola Nord in direzione Pisa e Serra Valle Sud in direzione Firenze sono sprovviste di GPL per un guasto. Sulla A12 code a tratti in direzione Genova tra Carrara e il Bivio per la A15. Sulla FIPILI rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori restringimento di carreggiata tra km 51 e 100 e km 51 e 900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione Mare. Ricordiamo l'obbligo di dotazione invernale a bordo pneumatici stagionali o catene. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!